Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming e benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news dedicato all'evento solstizio degli eroi nella sua edizione del 2021. Sapevamo che sarebbe arrivato, Bungie lo ha ufficialmente annunciato e ha condiviso tutti i dettagli che riguarderanno questa attività che inizierà il 6 luglio, martedì prossimo e terminerà il 3 agosto, quindi una durata totale classica di 4 settimane. Innanzitutto l'evento sarà gratis per tutti i giocatori, quindi anche quelli che non avranno acquistato la stagione del tecno simbionte e in realtà l'evento è lo stesso di tutti gli anni, Eva Levante sarà sempre l'NPC di riferimento, sulla torre sarà comparsa una statua per celebrare i guardiani, per celebrare noi e l'attività di riferimento sarà sempre la zona eterea europea, quindi quell'agglomerato di isolotti volanti, sui quali entro un tempo limite bisognerà uccidere più nemici, più boss possibili e al termine si potrà aprire un determinato numero di forzieri, quindi la stessa attività di tutti gli anni. Ovviamente poi saranno disponibili dei nuovi set d'armatura e alla fine il fulcro di questo evento sarà proprio questo, le nuove armature che si potranno potenziare completando determinate sfide e quando potenziate al massimo si otterrà anche un bagliore esclusivo che le renderà davvero molto molto vistose. Ogni giorno ci sarà un elemento di riferimento e per la prima volta tutti gli effetti saranno quattro gli elementi e non più soltanto tre, tranne quelle giornate in cui sarà attivo Prisma, ovvero tutti gli elementi avranno dei bonus ma se ne potrà utilizzare solo uno, quindi diciamo che si avrà libera scelta. Parlando di ricompense, oltre a tutti i classici oggetti cosmetici, quindi emblemi, spettri e quant'altro, ci sarà come obiettivo un fucile a pompa, che è quello che vedete a schermo in questo momento. Come ogni anno poi, come da tradizione anche, completando determinati obiettivi si potrà sbloccare la possibilità di acquistare la maglietta del solstizio degli eroi, che per chi le ha collezionate tutte negli anni passati, come il sottoscritto, sarà un must have. Ragazzi queste sono tutte le informazioni che potevo condividere con voi riguardo al solstizio degli eroi nell'edizione 2021. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e se così fosse vi invito a lasciarmi un mi piace, un commento, ed iscrivervi se non l'aveste ancora fatto. Io vi saluto e noi ci sentiamo la prossima. Ciao a tutti ragazzi!